Sempre in diretta da Cartoon Mix che stavolta siamo in compagnia degli amici della 501 Gary Solitalica, vale a dire i ragazzi che rappresentano in Italia Guerre Stellari, i film di Lucas. Nella fase specie abbiamo un Sand Trooper, cioè quelli operativi, e poi una crew della morte nera. Dico bene? Esatto. Però ragazzi dovete sapere che nel film non ci hanno fatto vedere proprio tutto, ci sono dei personaggi che noi pensavamo di riconoscere e non conoscevamo, come per esempio... Io sono Adam, Principe di Etencio, il difensore dei segreti del Castello di Greco. Sottigli di avere certi favolosi poteri segreti, il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi... Per la morte di Greco, la grande morte di Greco, la grande morte di Greco! Io diventai E-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo! E da Icar2Mix in compagnia degli amici della 501 e di Raffaella Carrà è tutto! e da Icar2Mix in compagnia dei raggedoni di Greco! It's a tutti e ci sono i miei in appunti di tastesта! Strada per l' réalzione dell'ing83 e scientific absolvi, Grazie.